Musica Salve a tutti spettatori e benvenuti in questa nuova lezione di PHP Finalmente andiamo avanti ed entriamo nel cuore effettivamente della programmazione del PHP Ossia di un web server in PHP Questa parte in realtà l'ho già accennata prima che iniziassimo il corso di PHP Ossia in cui ho spiegato come funziona un web server Che si tratta appunto delle richieste get, post ecc Le avevo accennate a livello teorico, oggi le vediamo a livello pratico in PHP Ovviamente questo è fondamentale per fare un qualsiasi sito PHP Se non imparate la lezione di oggi praticamente non imparate a programmare in PHP un sito web Queste variabili che andremo a vedere sono delle variabili super globali che abbiamo visto Nella scorsa lezione quindi effettivamente valgono per... Adesso io qui ho commentato tre tipologie di variabili Qui ho preparato una pagina es.php che ci andrà a mostrare quello che noi andremo a fare adesso Quando noi contattiamo una pagina PHP, una pagina di un server web qualunque Stiamo facendo una richiesta HTTP, ok? E le richieste di HTTP possono essere diversi Ma i due principali sono il get e il post Questo già l'avevo spiegato, ripeto Get, ricordiamoci, è in realtà la richiesta di default Ossia quando noi andiamo a scrivere il nostro URL su internet Premiamo invio e ci apre la pagina web In quel momento lì noi stiamo facendo una richiesta HTTP get A questo punto noi dobbiamo capire, dobbiamo avere un modo per capire all'interno del nostro server Un po' di richiesta sta facendo l'utente, ossia il browser, il client, questa pagina web Ad esempio l'es.php Per farlo abbiamo appunto questo metodo che ci permette di capirlo Ossia se noi andiamo a stampare questo Quindi questa variabile super globale server Contiene tutta una serie di parametri statici, ok? Che cambiano a seconda di quello che viene fatto al server In effetti qui è contenuta praticamente la configurazione attuale del server, ok? Sono dei parametri che si autogestiscono nel PHP Ce ne sono diversi ma principalmente a noi serve sapere questo per il momento Qui sotto ne vediamo un altro ma arriviamo a fine video a vederlo Questo è adesso quello su cui ci concentreremo Se noi adesso andiamo a stampare questo e ricarichiamo la nostra pagina Vedete che stampa get, no? Perché ci dice effettivamente che noi il metodo che stiamo andando a fare è il get Per fare il post, forse ve lo avevo accennato Questo invece servirà un form in HTML Quindi oggi torneremo indietro anche alla lezione di HTML E finiremo la discussione sul form A questo punto noi che cosa ci serve sapere Di che tipo stiamo facendo questa richiesta? Beh ci serve saperlo perché su una pagina Noi possiamo arrivare sia in get che in post Quindi gestiamo prima la get Ossia lo mettiamo dentro un if questo If la request method è uguale a get Allora può fare determinate cose Come ad esempio io gli posso dire di stampare ciao E lui stampa ciao perché siamo in get Però io gli dicessi arrivare in post Ok? Ad esempio qui gli dico se arrivi in post stampa ciao Lui chiaramente non stamperà nulla perché stiamo arrivando in get Facendo una richiesta così normale Sulla pagina web ok? Quindi questo già ci serve per capire se arriviamo in get o in post Ora vediamo anche cosa ci torna utile Ossia questo secondo parametro Ad esempio noi possiamo stampare Quest'altra variabile super globale Ossia request Nel particolare il parametro name Questo qua che cosa va a prendere? Va a prendere praticamente tutti i parametri Della richiesta che noi stiamo facendo Quindi sia che sia get sia che sia post Lui va a prendere la lista dei parametri Che noi stiamo passando a quell'url E in questo caso va a prendere il parametro name Come si passano i parametri a una richiesta? Avevo spiegato anche questo nel vecchio video Ma comunque riapprofondiamo Prendiamo il nostro url E nel caso di una richiesta get Si va a mettere il punto di domanda dopo l'url Vi ricordo Dopodiché si mette nome del parametro Quindi in questo caso name Uguale è il valore Ad esempio ciao Ok Poi è commerciale per aggiungere un altro parametro Se vogliamo aggiungere un altro parametro E ad esempio ci mettiamo surname Uguale è il valore di surname By Ok Si sto mettendo cose in vero simili A questo punto premiamo invio Come vedete lui ci stampa ciao Ok Perché? Perché qui gli abbiamo detto Che il parametro name Che gli stiamo passando in richiesta get È uguale a ciao Se noi adesso andassimo a mettere qui uno spazio E concatenassimo anche parametro Surname Ok Vedete che Vedrete che ci andrà a stampare anche il by Ok Perché il surname Se io ora qui questo by lo vado a cambiare in eee Vedete che lo va a cambiare anche lui qua E anche questo ciao Se io lo cambio in un nome vero Ok Va a cambiarlo direttamente qui Magari faccio un piccolo zoom così almeno Quindi questo ci fa capire insomma come Come si passano dei parametri In get In post invece I parametri non funzionano così Vanno Siccome avevo spiegato che in post sono criptati Ok I parametri vengono criptati Non si vedono nell'url Quindi non li possiamo passare tramite url Ma vanno passati in un'altra maniera Ossia tramite un form Che vedremo tra poco Prima c'è un'altra cosa da sapere Ossia il fatto che A noi non utilizziamo in generale la super global request Ma utilizziamo la super global get Ok Get se stiamo facendo una richiesta get E post Cioè post scritto così Se siamo in richiesta post In questo caso qui riceveremo un errore Guardate Abbiamo nick però non ci stampa il surname Perché va a prendere questa variabile post Adesso in questo caso non ha dato errore Strano Perché dovrebbe dire che è indefinita questa variabile In genere a me lo fa Probabilmente dipende dalla configurazione di Apache Su altervista In ogni caso noi Come facciamo a sapere Se ci arriva un determinato parametro Facciamo un'altra Un'altra condizione Ossia ci chiediamo If Is set Is set C'è questa funzione Che ci dice praticamente Se la variabile esiste E ci mettiamo quale variabile Che ne so Fai qualcosa E noi ci facciamo il nostro solito eco Ok Premiamo invio E non stampa assolutamente nulla Perché giustamente lui dice No Dov'è sta variabile post Non esiste Non siamo neanche richiesti a post Invece qua metto get Lui allora vede che esiste E allora stampa Ok Perché questo esiste Quindi mi raccomando Quando non siete sicuri Che un parametro esiste Utilizzate sempre La funzione Is set Is set Come la volete pronunciare Perché effettivamente Serve per Chiedersi se Quel determinato parametro Variabile Qualsiasi cosa Esiste Perché se non esiste Potremmo andare Ad incorrere Di errori E quindi si blocca tutto il codice Adesso invece andiamo a vedere Una richiesta Invece in In post Ok E una richiesta in post La facciamo Tramite un form HTML Vi ricordo Si può scrivere L'HTML Nei file PHP Fuori dal tag PHP Quindi noi ora Creiamo un form In cui ci mettiamo Un input Di tipo Testo Io spero che voi Abbiate seguito Le lezioni di HTML Altrimenti non capirete Un gran che qui L'importante che ci dobbiamo Settare qui È il name E il name Deve avere lo stesso nome Del parametro Che noi vogliamo passare In PHP Ad esempio Lo chiamiamo Testo Ok Dopodiché Se noi andiamo a ricaricare La nostra pagina Adesso però Andiamo magari a fare Normale Senza parametri Ok abbiamo il testo Abbiamo il nostro Text field Per premere invio Ci serve fare Un pulsante Quindi un input Di tipo Submit Vi ricordo l'HTML Spero che Cioè dovreste Sapere tutto Quello che vi sto dicendo Perché l'abbiamo già visto Facciamo ad esempio Invia Come vedete adesso ci compare Anche il nostro pulsante Ora la domanda è Dove lo invia Questa cosa Bella domanda Glielo diciamo qui Tramite l'action Ok Tramite il parametro action Del form Qui dentro ci mettiamo L'URL Di dove deve andare Ad esempio Noi ci mettiamo Sempre ESPHP Se ci mettiamo sempre ESPHP In questo caso Ricarichiamo la pagina Se ci avessimo messo Un ES2PHP E creiamo un altro file ESPHP Va su un'altra pagina Ok L'importante Anzi facciamolo Perché se no Mlicchiamo questo Lo chiamiamo ES2PHP Torniamo nel nostro ESI Invece Adesso questo codice A noi non serve Facciamo finta che questa sia Una pagina HTML Normale Anche si PHP E quindi lui sa dove andare Ora però vi faccio notare Una cosa Guardate che cosa succede Se premiamo Qui scriviamo qualcosa E premiamo invi Succede che praticamente Lui in automatico Va a mettere Il parametro Testo Uguale a ciao Ossia praticamente Prende il nome Di questo Text field E prende il suo valore Ossia il contenuto E lo mette nella pagina Di destinazione Infatti vedete che siamo Su ES2 Però noi volevamo fare Una richiesta post Come facciamo a diglielo Aggiungiamo un altro parametro Qua che si chiama Method Facciamo uguale E scriviamo post Ovviamente possiamo scrivere Anche get qua Ma abbiamo notato Che di default Se noi non dichiariamo Il method Fa una get Ok quindi di default Fa una get Come infatti funziona In una pagina web Se noi vogliamo fare una post Glielo dobbiamo dire E scriverlo qui Nel parametro Questo punto Se noi ricarichiamo Togliamo magari Stiamo su ES Ricarichiamo Scriviamo qua di nuovo Ciao e premiamo invio Lui va su ES2 Ma come vedete Qui non lo mette Ok e voi direte Allora che cosa serve Questo Serve perché il parametro In realtà L'altra pagina è arrivata Ora però sta a noi Fare il codice Su ES2 Di lettura Del Del parametro che arriva Quindi qui ci chiediamo Innanzitutto se siamo in post Perché questa volta Stiamo ricevendo una richiesta A post Ok e a questo punto Diciamo Se è Is set È impostato Il parametro Post e testo Il nome testo Vi ricordo L'abbiamo Allora a questo punto Vai stampare Il contenuto del testo E noi vedremo Che prima di questa roba qua Adesso ci scriverà Quello che noi scriviamo Dentro al testo Ossia Noi qui adesso ci scriviamo Ciao Lui scriverà Appunto Ciao E vedete che non è comparso Nell'url Perché siamo arrivati In post Qui possiamo aggiungere Un altro pulsante Ok E magari facciamo Un'altra Un'altra azione Con scritto Ad esempio Con catena Ok A questo punto Noi abbiamo Due tipologie Di possibilità Ok Ossia Il testo rimane Unico Però noi possiamo fare O un'azione O l'altro Per distinguerle Dobbiamo dare a queste due Un nome anche loro Ad esempio Questa la chiamiamo Con cat E quella sopra Invece la chiamiamo Send Ok Sono dei nomi Di azioni Che gli stiamo Dando A questo punto Noi andiamo Nella pagina S2 Ossia la nostra Pagina di destinazione Innanzitutto Ci chiediamo Se stiamo in post Perché questo è Quello che ci importa A questo punto Se siamo in post Andiamo a chiederci Se è impostato Il send Se è impostato Il send Sappiamo che siamo In send Ok Ossia che abbiamo Premuto l'operazione Send Else if Quindi se non è send Ci chiediamo Se è con cat E allora a questo punto Noi sapremo Che l'operazione Invece è con cat Quindi vuol dire Che abbiamo Due scelte diverse E qui adesso Andiamo a fare Il nostro codice Allora se è un send Normale Io andrò A stampare Semplicemente Il mio parametro Ossia farò questo E poi Prendo questo E ce lo vado A mettere qua dentro Ossia lo stampo Solo Dopo Il send Ok così Se invece siamo in con cat Io vado a fare Eco E ci metto Prima il testo Magari dentro Ok E poi ci aggiungo Anzi no Con cat Vuol dire che magari Lo concateniamo Direttamente dentro All'h2 E poi ci aggiungo Il mio parametro Sbagliato Qui non è send Ma è testo Testo perché è il contenuto Della label E ci aggiungo poi il mio testo Quindi la differenza Quale sarà Sarà che adesso Non cambia nulla Sul fatto di inserire Di inserire del testo Quindi noi possiamo Inserire qualsiasi cosa Se premiamo invia Lui saprà Che siamo su send Il che che cosa significa Significa che se siamo su send Fa la stessa cosa Che abbiamo visto prima Ossia scrive il contenuto E poi ci piazza L'h2 Se invece Premiamo il con catena Lui saprà Che siamo su concat E allora ci stamperà Solo l'h2 Con dentro anche Quello che noi abbiamo scritto Nel testo Due operazioni diverse Andiamo a vedere Come vedete Se ricarichiamo Lui riprende la richiesta Comunque rifacciamolo Così lo vediamo meglio Se io scrivo Ciao E premo invia Lui scrive Prima ciao E poi mette l'h2 Se io invece Scrivo ciao E premo con catena Lui praticamente Va a stamparmi l'h2 Con attaccato anche Quello che abbiamo scritto noi Torniamo indietro Ad esempio Scrivo ciao E rifaccio con catena E lui mi mette Quello che ho scritto Ok Due operazioni diverse Adesso Complichiamo la cosa E mettiamo Che ad esempio Se siamo in get Può succedere anche Qualcos'altro Quindi a questo punto Io qui ci aggiungo Un altro if Sotto In cui gli chiedo Se invece siamo in get Request method Uguale a get Allora semplicemente Fai un echo Pagina non disponibile Ad esempio Pagina non disponibile Infatti ora Se noi andiamo Ricarichiamo Vabbè adesso C'è ancora una richiesta Post Ricarichiamo così Ossia Rinviamo la richiesta Vedete che da pagina non disponibile Perché così Arriviamo in get Se invece Torniamo indietro E qui Che abbiamo il nostro form Andiamo in post Vedete che non ci da Pagina non disponibile Ma ci da Il nostro risultato Eppure l'url Non cambia Ripremiamo invia Pagina non disponibile Ok Questa è la differenza Di come appunto Si fa un Una get Un post O comunque Come si gestisce Una richiesta in genere Ora vado a mettere Tutto il mio codice qua Perché invece Voglio farvi vedere L'ultima variabile Super globale Di oggi Ossia il php self Il php self Serve Per recuperare Praticamente L'url Della pagina corrente Ok Tutto l'url Della pagina corrente Quindi io se ad esempio Voglio fare un refresh Della pagina Vado a mettere Un php Qui dentro Che mi va a stampare Questa variabile Ok Questa variabile Praticamente stampa L'url In cui ci troviamo Quindi a questo punto Non andremo più Su un es2 A fare questa operazione Ma lo facciamo Sulla stessa pagina Ossia torniamo su es Adesso ci dirà Pagina non disponibile Ok E poi vabbè Ci mette il nostro form Quindi ad esempio Adesso per non confondervi Togliamo questo Ok Così lui stampa solo il form Ora vedrete Che la stessa identica cosa Che abbiamo visto Sull'es2 Adesso la farà Sempre qua Sulla stessa pagina Senza cambiare nulla Guardate Ciao Invia Come vedete Lo aggiunge Prima del nostro form L'url Non è cambiato Facciamo un concatena Con catena E cambia Quello che c'è sopra Ok Adesso andiamo a fare Un'ispezione elemento Vedete Praticamente Vedete che All'interno del form Qui l'action Ha messo Esattamente L'url In cui ci troviamo Perché utilizzare Questo metodo Del php self Per un semplice motivo Ossia Perché in php A differenza di quando fate Un sito solo in html Non dovete mettere Path Relativa Ossia Da dove vi trovate Alla path Finale Ma dovete mettere Tutta la path Quindi dall'http Due punti Slash Slash Dovete ripetere Tutto l'url In php E' meglio fare così Perché velocizza Di più la cosa C'è proprio il contrario Dell'html Questo era un esempio Per mostrarvi Insomma come funziona Tutto Adesso andiamo a vedere Un esempio più pratico Vi faccio vedere Come ho organizzato Quale cose Qui ho preparato Un index php Praticamente Quello che va a fare È creare una pagina Html normale Qui ci va a concatenare Leder html Tutto il footer Html Vedete Questo è il risultato Che è un php Un paginator php Il paginator php Praticamente Si occuperà Di gestire Adesso tutta la pagina Che cosa significa Che ovviamente Sarà una questione In get Significa che praticamente Io ora Se vado in html Ho preparato diversi html Tutto il contact Il footer E l'header L'avete già visti Home e login Delle pagine Che come vedete Corrispondono a quello Che io ho messo qua Sapere che dentro C'è un pezzettino Di html Quel pezzettino Di html Comparirà qua in mezzo A seconda della pagina In cui noi andiamo Invece di fare Ad esempio Che ne so About Punto php Eccetera Per cambiare pagina Noi resteremo Noi resteremo in un index Php Ma cambieremo pagina Seconda del parametro Che gli passiamo In get Che contiene tutti i pulsanti Del nostro menu L che ci serve Innanzitutto questo qua Adesso lo trasformeremo In un php Perché? Perché come vi ho detto Ci serve il php self E andiamo a fare la variabile Che abbiamo visto prima Ossia php self Per ripetere l'url Dopodichè ci aggiungiamo Un punto di domanda Facciamo slash punto di domanda Aggiungiamo page Uguale Ad esempio Questa è la home Quindi index Che ne so Ci mettiamo Andiamo a metterci Ad esempio La stessa cosa Solo che andrà su About Si tratta semplicemente Di passargli un parametro page Che è uguale Al nome della pagina E noi A seconda di Quello che noi andremo A cliccare qui Ci troveremo Su una pagina diversa Ora vedete Non funziona Però comunque Aggiunge il parametro Fuori Ok Come vedete È come se stessimo Cambiando pagina Senza cambiare Fisicamente pagina Però ci serve Il codice Che ci cambia Il contenuto Della pagina Qui nel paginator PHP Che vi ricordo È collegato Qua in mezzo Chiediamo Se è impostato In get Parametro page Non è impostato Il parametro page Allora vabbè Non importa Facciamo un include Usciamo HTML E andiamo a prendere HTML Quindi Se non c'è il parametro Quindi vuol dire Per non esserci il parametro Vuol dire che ci troviamo In questo stato qua Ok Vabbè Stampa la home Comunque Ok Altrimenti Andiamo a fare uno switch Vedete che comunque Stanno tornando molte cose Di quelle che abbiamo visto Negli scorsi video È sempre così Quindi quando facciamo Quando facciamo le lezioni Di programmazione Gli passiamo Il contenuto Del parametro in page E andiamo a fare Case Vai a fare Questa stessa include Che abbiamo fatto qui Facciamo il nostro Break E ci andiamo a fare Il nostro include E poi ci mettiamo Break E andiamo avanti così Finché non abbiamo finito Tutte le opzioni Che abbiamo messo Nelle pagine Ok Ci aggiungiamo anche Un default Proprio per fare Le cose per bene Invece stampiamo Facciamo un eco E diciamo Pagina non trovata Quindi Andiamo a vedere E infatti Come vediamo Ricaricandoci Stampa benvenuto Nel sito web Eccetera Che questo è praticamente Quello che siamo andati a prendere Nella index HTML Se andiamo su about Come vedete Cambia il contenuto Qui è cambiato il parametro Contattaci Ci mette con una forma Vabbè non c'è CSS Quindi la mette Schifosissima così E se andiamo su login Cambia ancora Ci mette questo Se noi qui adesso Ok vabbè Ricaricato Siamo tornati sulla home Se noi adesso Ci andiamo a mettere Page uguale Scriviamo una cosa a caso Ci scrive 404 Pagina non trovata Questo era un esempio Molto grezzo Per farvi vedere Come utilizzare le richieste Get Post Eccetera E come andrà strutturato Poi alla fine Un sito in pecca Tutto questo per oggi Abbiamo visto tutto E forse anche troppo Ci vediamo nel prossimo video Nella prossima lezione Che saranno sempre più articolate E complesse Ormai siamo nel cuore Di come creare un sito web Vi invito a lasciare un like A condividere questo video In modo tale che possa essere utile Anche ad altre persone Iscrivetevi per nuovi video Come questi E al prossimo tutorial Grazie per la visione Grazie per la visione